Il movimento di Pepe. Quattro contro due per l'Arsenal con Ozil che va dall'altra. Quattro contro due per l'Arsenal. 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 La parte di entrambe le squadre, detaco, Osil per la Casano. Corto per Rudiger, diventa assist per Osil, posizione irregolare. E allora l'Arsenal prova a punire, urla una Ieveri, Osil va dentro dall'HP, Osil può mettere il cross, tocco dentro invece è geniale. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.